Il distributore di servizio invia a Domodossola bocciato dalla provincia. Il dirigente Lizio sostiene che senza conferenza di servizi oggi la struttura è irrealizzabile. Da Palazzo Sant'Agostino è partita anche una comunicazione al comitato chiedendo di essere informati sul ricorso. Lizio ha inviato una nota al comune di Battipaglia, al presidente della provincia Michele Estrianese, ed ha risposto affortunato ricco portavoce del comitato Prima Battipaglia, sorto qualche mese fa per contrastare la decisione dell'amministrazione comunale retta dalla sindaca Cecilia Francese di far costruire un distributore di carburante nel cuore della città, in via Domodossola, a due passi dal liceo. Le preoccupazioni e le osservazioni del comitato sono state ampiamente condivise dal dirigente Lizio, che è tra le righe bacchetta lente di Piazza Aldomoro, per il mancato col volgimento. Lizio ha ribadito che la struttura è già stata autorizzata dall'amministrazione comunale di Battipaglia, peraltro in mancanza di una conferenza di servizi e che il comando provinciale dei Vigi del Fuoco di Salerno ha sospeso il parere favorevole, in precedenza espresso per poi revocarlo per mancanza di attività istruttoria da parte del richiedente. Attualmente, inoltre, pende ricorso innanzi al TAR Campania per l'annullamento previa adozione di misure cautelare degli atti di approvazione e di ogni altro atto istruttorio del procedimento che riguardi la realizzazione dell'impianto, a prendere una posizione netta contro la realizzazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!